Cinque sanitari tra medici e infermieri dell'ospedale di Cittadella sono indagati per un ucidio colposo per la morte di Stefano D'Ambrosca, il 47enne di Marghera, morto il giorno di Ferragosto, dieci giorni dopo un intervento per rimuovere un ascesso in gola. L'uomo stava bene, non aveva patologie pregresse il giorno di Ferragosto. La compagna però lo ha trovato a terra con il sangue che gli usciva dal naso e privo di sensi. La famiglia ha presentato un esposto in procura a Padova ed è stata disposta all'autopsia. Gli indagati fanno parte dell'equip che ha operato il 47enne, otorino laringoiatri, anestesisti e infermieri del nosocomio di Cittadella. Stefano D'Ambrosca era arrivato lì dall'ospedale di Campo San Piero. Gli era stato riscontrato un ascesso in gola. L'intervento, effettuato il 5 agosto, a detta dei medici era riuscito ed era stato dimesso dopo tre giorni in terapia intensiva. La situazione è precipitata improvvisamente. Dopo l'autopsia, la salma del 47enne sarà riconsegnata ai familiari per i funerali.